Buongiorno Deido, prima di addentrarmi nelle news di oggi, oggi parleremo di Apple Vision Pro, non solo di Apple Vision Pro, anche di cose brutte, brutte da una parte per una persona in particolare e dall'altra per molte invece altre persone, perché parleremo di lay-off anche, quindi cose spiacevoli. Prima, una piccolissima riflessione. C'è una news, quindi è una riflessione che è stata triggerata da un fatto avvenuto recentemente, ve lo devo riassumere in breve. Riguardo ai videogiochi, quindi vi cito un videogioco che se non siete giocatori non lo conoscete, se siete giocatori potrebbe essere che non lo conoscete, perché non è un gioco che ha avuto tutto questo successo. Insomma, è un gioco di qualche anno fa, si chiama Spec Ops The Line. È un videogioco di guerra in 3D e va bene, chi l'ha giocato se lo ricorda per la sua storia molto intensa è una storia di... non so se vi ricordate Apocalypse Now, spero di sì. Insomma, è quel tipo di storia di guerra in cui man mano che si arriva verso la fine ci si addentra sempre di più nell'abisso, nella mente umana. E in effetti ha molto in comune con la storia di Apocalypse Now, del film, del libro, insomma, di quel tipo di storia. Ma questo è perché ci si ricorda di quel gioco. La news in realtà però riguarda un fatto, e cioè che il gioco è stato ritirato dagli store, non è più possibile comprarlo in digitale, è possibile mantenerlo per chi l'ha già comprato, ma non è più possibile comprarlo, perché i diritti delle canzoni, di alcune canzoni incluse nel gioco, sono scaduti. Cioè i produttori di questo gioco hanno creato il prodotto acquisendo i diritti di alcune musiche e di alcune canzoni che hanno poi inserito nel gioco. Si parla appunto di musica che voi richiamano quelle atmosfere, no? Jimi Hendrix, eccetera. Qui i diritti sono scaduti e quindi il gioco è stato ritirato. E la riflessione, non è la riflessione, insomma, il pensiero che è venuto è quanto è ridicolo il diritto d'autore. Se pensiamo che anche un'opera, che è un'opera che contiene quelle musiche, quindi è un'opera che poi deriva dall'insieme di tante cose, perché il videogioco poi è un insieme, ma come anche i film, no? Sono insiemi di varie, di vari media. Ci sono musiche, qualcuno ha scritto la sceneggiatura, qualcuno ha scritto il libro del cui magari la sceneggiatura è tratta, hanno girato delle immagini, gli attori hanno prestato le proprie fattezze, la propria voce. Quindi immagino che ognuna di queste cose sia protetta in qualche modo, ma è chiaro che poi l'opera che ne deriva è una opera. È incredibile come ci sia una scadenza dei diritti su un singolo aspetto di questa opera e l'intera debba essere ritirata dal mercato. Questo è, secondo me, è proprio inaccettabile ed è una di quelle situazioni in cui l'unica cosa che si può fare è piratare. Potremmo scaricare questo gioco illegalmente, perché è talmente ridicola questa questione. È come se voi domani non poteste più guardare il film di Coppola perché sono scaduti i diritti dei Doors, della musica dei Doors. Siccome non si può più ascoltare The End nel film, allora tutto il film sparisce, voi non lo potete più guardare. Ha senso? Ovviamente non ha senso. E quindi perché questa cosa si applica a un videogioco, che è un'opera di minor valore, non ha assolutamente senso. E questa era così l'introduzione simpatica e frizzante che volevo fare. Per consigliarvi di piratare Spec Ops The Line. Ovviamente non sto consigliando azioni legali, assolutamente lungi da me. Però, se proprio dovete, ecco, Spec Ops The Line, anche se non lo giocate. Poi, incidentalmente, vi consiglio comunque di giocarlo perché, tutto sommato, è un bel gioco. È una bella storia da vivere, insomma. Non è che sia un gioco granché, però la storia merita. Al di là di questo piccolo consiglio, madonna santa, diritto d'autore. Funziona così, apparentemente, nel 2024. Vai, news di oggi, Vision Pro. E allora, sono scaduti gli embargo per le recensioni di Apple Vision Pro. Quindi tutte le testate giornalistiche professioniste in America, negli Stati Uniti naturalmente, perché stiamo parlando di un prodotto destinato unicamente, per ora almeno, al mercato statunitense, hanno potuto fare le review di Vision Pro. E quindi sono uscite tutte le recensioni proprio ieri. E approfitto di questa massa di recensioni per andare a prendere un articolo che in realtà le mette insieme un po' tutte e fa una media, ovviamente tra i pezzi più... delle riviste che hanno più rilievo. Ed è il Guardian. Il Guardian ha fatto questa specie di round di revisioni prese da altre riviste. E quindi lo sfruttiamo per andare a vedere un po' qual è stata la reazione delle riviste di settore alla review di Apple Vision Pro. Che vi ricordo, come ci ricorda anche il Guardian, che è un device per la realtà virtuale e realtà aumentata creato da Apple che costa attualmente 3.499 dollari negli Stati Uniti. È disponibile soltanto lì e tra l'altro i preordini saranno attivi proprio tra un paio di giorni. Quindi dovrebbero iniziare ad arrivare nelle prossime settimane anche fisicamente nelle mani dei consumatori americani. E si parte con la recensione di The Verge, dove c'è Nilay Patel, che va a parlare di un prodotto straordinario nel suo insieme, però con un sacco di trade-off che bisogna tener conto. Allora, dice, Apple è molto orgogliosa dei display che stanno in Vision Pro. Sappiamo che è il pezzo su cui Apple ha concentrato la sua comunicazione, ma anche gli sforzi produttivi. Noi display con una risoluzione altissima che permettono appunto di guardare anche un testo, di leggere un testo nei display VR senza faticare la vista e senza che sembri di essere dentro un display VR. Cosa ad esempio che con i display anche migliori che abbiamo oggi, alternativi, è comunque difficile. È anche faticoso per gli occhi, no? Quindi questi display, secondo la recensione di The Verge, rappresentano in effetti un grosso passo avanti nelle tecnologie degli schermi. E in generale si guardano in modo incredibile. Quindi sono abbastanza nitidi per consentire la lettura di testi senza pensare appunto che siamo in VR e sono anche sufficientemente luminosi da guardare dei film. Anche i colori sono molto vibranti, sono accurati dal punto di vista proprio dell'accuratezza del colore e non sembrano neanche troppo super saturi. Quindi in generale è anche una buona fedeltà dei colori di questo display. Poi parla del pass-through. Il pass-through è quello che consente di guardare il mondo reale attraverso le telecamere del Vision Pro. Quindi riproduce il mondo reale dentro il Pro. Ovviamente a cosa serve? Serve a non isolare, no? Se voi siete in una sessione all'interno del Pro e qualcuno si avvicina a voi per parlarvi, ecco che il Pro può passare in una modalità pass-through che vi consente di guardare cosa c'è dall'altra parte, mettere in pausa quello che state facendo e guardare chi vi sta parlando. Con una feature tra l'altro che Apple ha anche molto sponsorizzato, poi lo vedremo, che riproduce su uno schermo ulteriore che c'è nel frontale del Vision Pro i vostri occhi, che è un po' strano, no? Comunque chi vi sta guardando vedrà la riproduzione dei vostri occhi nello schermo anteriore del Vision Pro. Quindi per non avere anche lui l'idea dell'isolamento. Insomma, questa è l'idea un po' di Apple. Comunque, il problema di questo pass-through è l'angolo, quello che viene definito field of view, sarebbe l'angolo di visuale, cioè quanto largo è il campo che riuscite a vedere, no? Quindi sembra che state guardando attraverso un binocolo, quindi avete un campo limitato, oppure si avvicina di più alla vista reale. Ecco, in realtà qui c'è una critica. Il grado orizzontale di questo campo non è molto esteso. È meno esteso apparentemente di quello di Quest 3, che è un dispositivo creato da Meta, è uscito qualche mese fa, con pretese hardware inferiori e costi molto inferiori. Comunque il field of view è inferiore rispetto al Quest 3. E quindi comunque i bordi neri, laterali, si vedono, si vedono tanto e sono anche abbastanza fastidiosi. Danno l'impressione di guardare attraverso un binocolo. Questa cosa non è stata apprezzata, anche perché la comunicazione di Apple, diciamo che la mascherava parecchio. E invece, insomma, pare che sia una cosa piuttosto evidente. Si passa poi a CNBC, che parla invece di come abbia apprezzato guardare dei film attraverso questo visore. E tra l'altro ha usato anche la app NBA. L'app NBA è stata una di quelle che è stata più pubblicizzata, perché effettivamente, anche a livello tecnico, porta delle novità molto notevoli su come fa vedere la partita, le statistiche, il movimento dei giocatori, ma la possibilità anche di vedere più partite contemporaneamente. E infatti questa è stata poi testata dal recensore di CNBC e ha provato a vedere quattro partite contemporaneamente, una principale nel centro dello schermo e poi altre di lato. Insomma, è stata una cosa abbastanza incredibile, dice il recensore. E poi parla invece della questione delle app, perché il Vision Pro supporta più di un milione di app iPhone e iPad, ma bisogna cercare ogni app individualmente e molte non sono disponibili. Per esempio Netflix e Spotify hanno reso ben chiaro che non hanno intenzione di supportare Vision Pro. Nonostante questo, si può accedere a Netflix e Spotify attraverso il browser. Però ci sono ancora altre app che non sono ancora presenti. Per esempio manca One Password. E questo è importante perché rende la procedura di login nelle app piuttosto fastidiosa, dolorosa, il fatto di non avere un password manager. E tra l'altro mancano le app di Google. Per esempio manca YouTube TV, anche se anche YouTube e YouTube TV sono accessibili da un browser. Poi mancano alcuni videogiochi molto popolari come Diablo Immortal o Genshin Impact. Mancano le app di Facebook, quindi non c'è Instagram. Quindi insomma, queste sono le più evidenti che hanno dato il recensore, ma è naturalmente un processo che arriverà. Dal punto di vista di noi sviluppatori, gli SDK sono già usciti da un po'. Anche alcuni framework popolari come React Native stanno supportando, iniziando quantomeno a supportare Vision Pro e quindi con calma, insomma, questo credo che sarà un aspetto che verrà colmato, arriveranno le app, a parte quelli che non vogliono arrivare come appunto Spotify e Netflix che poi sapete che hanno anche altre questioni in sospeso. Ecco con Apple. Comunque, parla poi il Wall Street Journal di un aspetto invece proprio di uso, everyday use, che è la tastiera virtuale. Quindi Vision Pro ha questa tastiera virtuale che vi permette di digitare nell'aria, è il keyboard praticamente. Solo che questa cosa di accelerare il sensore ti farà impazzire, ti renderà pazzo se proverai a scrivere qualunque cosa di più lungo di un messaggio piccolo, corto. E selezionare i bottoni più piccoli con il pinch, quindi con il movimento delle dita, è praticamente un giochino, è un gioco, non so come tradurre Carnival Game. Vabbè, è un gioco a premi. Quindi è difficile traduco così. È complicato, ecco, riuscire a selezionare i tasti più piccoli. Quindi il lavoro vero, è riuscito a farlo questo recensore di Wall Street Journal, soltanto dopo aver fatto il pairing con una tastiera Bluetooth e con un mouse. E ancora di più, quando ha connesso il Vision Pro a un MacBook Pro. In questo caso, ha avuto tutta la potenza e la comodità del MacBook Pro e gli schermi virtuali giganteschi che Vision gli ha consentiti di avere. Tra l'altro qui si capisce anche come l'interconnessione tra Vision Pro e gli altri device del mondo Apple sia potente, insomma, sia una delle cose su cui Apple punta di più. Poi si parla del peso. Quindi la domanda è pesante? E la risposta è sì. La costruzione in metallo e vetro gli dà un aspetto premium, ma gli dà anche un certo peso. Quindi questo peso si sente. E il peso è una delle ragioni per cui questo visore è dotato di una batteria esterna. È una batteria che è collegata da un cavo, ma anche nella recensione di The Verge si diceva come la costruzione in magnesio, fibra di carbonio e alluminio lo rendano comunque pesante. E questo dipende anche dal tipo di elastico, insomma, di banda elastica che si usa, perché ce ne sono... c'è anche una più premium, diciamo. però il peso può andare dai 600 ai 650 grammi. Per paragonarlo, un iPad Pro da 11 pollici pesa 470 grammi. Un iPad Pro da 12.9 pollici pesa 682 grammi. Quindi, dice il recensore, praticamente è come avere un iPad in faccia. e si passa invece a Tom's Guide. Tom's Guide parla della batteria come una delle cose più fastidiose. La batteria in alluminio di Vision Pro deve sempre essere con te e questo non è un... questa non è una gran cosa. Devi metterla in tasca e comunque deve stare vicino a te anche quando stai seduto. È pesante, è più pesante di un iPhone 15 Pro Max e anche se il cavo è abbastanza lungo però se sei totalmente immerso in un gioco o in un'altra esperienza e ti muovi rapidamente potresti incappare, ecco, fare incappare il cavo in uno dei tuoi mobili. Insomma, potrebbe essere fastidioso. Potresti prendere contro un tavolo e quindi questo potrebbe essere dannoso perché poi chiaramente la batteria si potrebbe staccare o cadere. E quindi questo è un problema. In ultimo, si va a vedere la recensione di CNET, un'altra delle storiche testate di settore e si parla qua di quelle esperienze che Apple vorrebbe farvi vivere sui vostri ricordi, cioè le foto in 3D scattate con Vision Pro oppure con iPhone 15 Pro sono poi rivivibili dentro Vision Pro. Potete immergervi in queste foto o in questi video fatti in 3D. E quindi dice Apple sta cercando di vendere ecco Vision Pro come il posto dove rivedere i momenti della propria vita. Una sorta di minority report. E dice il recensore ho provato a guardare questi special videos, così li definisce a Apple che sono video 3D che erano stati girati con iPhone 15 Pro e ha anche provato con i video girati direttamente con Vision Pro che ha le sue naturalmente fotocamere. La qualità di foto e video in 3D non è assolutamente buona quanto il formato da 180 gradi, il formato più immersivo da 180 gradi. Non gli si avvicina nemmeno ma se si utilizza una modalità di visione diciamo con il bordo quindi riducendo l'angolo di visuale allora quello inizia ad assomigliare ha un ricordo ecco che viene riprodotto. Bisogna un po' ridurre ecco l'angolo di visuale. E inoltre comunque la recensione di Cinect loggia a Vision Pro come il miglior display il miglior caschetto 3D caschetto VR che si sia mai messo in testa ecco. Ma allo stato attuale in questa sua forma attuale sarà complicato venderlo perché con questo prezzo e con così poche app native Vision OS al lancio non è un device che il recensore raccomanderebbe a amici o parenti. Ecco quindi per me di tutto consiglio di andare a provare una demo all'Apple Store e poi aspettare e vedere cosa ci riserveranno i prossimi mesi. Quindi questo per fare un po' un giro sulle principali recensioni di Vision Pro che stanno arrivate se volete qualcosa di molto più approfondito io vi consiglio la recensione di The Verge c'è anche il suo video YouTube è molto lunga è molto dettagliata qua se vi interessa proprio andare a spulciare che cosa fa Vision Pro qua c'è tutto state vedendo alcune immagini se siete su YouTube o Spotify video di questa recensione insomma credo che sia quella al momento più più esaustiva è fatta meglio quindi ve la consiglio The Verge e questo era Vision Pro ok ora faccio le altre news un po' più velocemente prima di tutto Taylor Swift perché parliamo di Taylor Swift in questo podcast che dovrebbe parlare di tecnologia perché Taylor Swift è al centro di un problema derivato dall'AI se non l'avete seguito negli ultimi giorni Twitter è stata invasa da Twitter X dovrei dire al momento è stata invasa da immagini deepfake di Taylor Swift in insomma immagini pornografiche create con l'AI è stata proprio invasa al punto che Elon Musk ha dovuto disattivare le ricerche per Taylor Swift su X una cosa abbastanza allucidante ebbene questo ha causato una discussione addirittura al Senato degli Stati Uniti e la creazione di un cosiddetto bill quindi di un decreto insomma che dovrà poi diventare una legge e bipartisan quindi sia di senatori della destra che della sinistra americana e quindi è stato introdotto appunto questo bill che criminalizza la diffusione di immagini non consensuali e sessualizzate generate dall'intelligenza artificiale ed è creato è stato creato direttamente dopo e assolutamente per rispondere all'evento Taylor Swift quindi praticamente è un Taylor Swift bill ma non è stato chiamato così è stato chiamato Disrupt Explicit Forged Images and Non Consensual Edits Act of 2024 insomma fortunatamente c'è anche una versione più breve che è Defiance Act quindi questo sarà il nome della della legge e questa misura che cosa farà praticamente criminalizzerà penalmente tutti coloro che producono o possiedono queste immagini ecco con l'intento di distribuirle o e questo è un po' più fumoso mi ha un po' mi ha un po' spaventato questa ultima frase dice chiunque riceverà questo materiale sapendo che non è stato fatto con il consenso della persona presente nelle foto e poi spero che la dicitura nella legge sia un pochino più precisa perché sai non vorrei ecco che qualcuno facesse degli scherzetti inviando in messaggio privato delle cose non belline e poi ci va di mezzo anche chi le riceve spero di no ma insomma questa questa formulazione è un po' strana ora poi l'articolo qua sono ancora su Guardian parla della vicenda appunto attorno a Telo Swift che ha visto apparire appunto su X delle immagini sessualizzate anche molto spinte generate con con l'AI e secondo una un report di 404 404 media lo citiamo anche spesso queste immagini sono state generate con Microsoft Designer che è un'app che sta nel nel gruppo di app di Copilot di l'ex Bing ecco con cui chiunque può generare gratuitamente delle immagini con dall'i e quindi si è capito si è scoperto che queste immagini di Telo Swift erano state generate da designer Microsoft quindi aveva un problema in designer che non dovrebbe in teoria consentire la generazione di materiale di immagini pornografiche e adesso ha fixato ecco questa questa falla però questo ha consentito a un po' di persone di creare e di sparare su X tutte queste immagini e infine vi avevo detto purtroppo dobbiamo parlare di cose brutte molto brutte per molte persone cioè i layoff ogni tanto dobbiamo fare questa rubrica layoff chi è stato layoffato chi è stato lasciato a casa in questa settimana perché purtroppo nel nostro mercato i layoff sono sempre più frequenti e lo sappiamo ormai ci dobbiamo abituare vi faccio un giro giusto per farvi capire quali sono le aziende dove questi tagli si sono concentrati ultimamente così un po' per avere un'idea di come si sta riformando il mercato sempre ricordando che quando si parla di layoff non sono necessariamente persone che perdono il lavoro all'istante molte di queste poi vengono ricollocate nella stessa azienda in altri uffici o comunque in aziende facendo parte dello stesso gruppo oppure sono tagliate posizioni appena aperte non ancora coperte da ruoli full time quindi non è esattamente cioè i numeri che sentirete e che sentite durante le news delle layoff non sono esattamente tutte persone che vanno a casa o perdono il loro lavoro non è esattamente così però insomma vi fa un po' capire questi processi di ristrutturazione ecco delle aziende quante posizioni toccano si parte da Google che va a tagliare un centinaio di persone dalla parte business di YouTube quindi YouTube che non era stato ancora toccato dai numerosi layoff di Google invece adesso c'entra dentro quindi anche YouTube perde insomma qualche centinaio di persone lato business questi layoffati ecco non so bene come definirli dovranno poi hanno poi un piccolo periodo di tempo per ritrovare ruoli all'interno della compagnia anche se non sono garantiti naturalmente oppure insomma cercare sempre in altre dello stesso gruppo c'è un centinaio di ruoli dice la news di The Verge che sono soprattutto concentrati nel team delle partnership con i creator poi una news che non è solo sui layoff ma è una ristrutturazione abbastanza importante per chi si ricorda soprattutto gli albori di internet mettiamola così perché riguarda Pitchfork ora verrà assorbito da GQ perché infatti l'azienda che possiede Pitchfork che è Condenast ha deciso di mergiarlo con GQ è un altro magazine che possiede sempre la stessa azienda GQ è naturalmente il magazine che fa articoli per l'uomo non lo so parla di robe da uomini e Pitchfork apparentemente diventerà un qualcosa all'interno di GQ non più una testata indipendente e questo fa sì anche che molti dipendenti di Pitchfork sono stati layoffati sono stati inclusi in un giro di layoff tra questi anche l'editor in chief Pooja Patel che era comunque uno dei più presenti evidenti pubblici di Pitchfork e uno dei scrittori uno dei recensori ha detto che più o meno metà dello staff sarà parte di queste layoff nell'articolo se vi interessa qua sono su due verge si parla anche del passato di Pitchfork che era effettivamente una forza nella prima era dell'internet all'inizio degli anni 2000 quando c'era la blogosfera è la seconda volta che la cito quest'anno questa parola comunque era molto influente nel giro delle recensioni musicali c'era il rank delle migliori canzoni migliori album questo poteva anche significare la fine di una carriera per se una recensione andava molto male e è stato lanciato da Ryan Schreiber nel 1996 come un piccolo blog indipendente poi esploso diventando una potenza nel settore Condenast l'ha poi acquisito nel 2015 e inoltre all'interno dell'intero gruppo di Condenast ci saranno altri layoff il CEO Roger Lynch ha detto che il piano è di appunto ricollocare circa 300 dipendenti torno poi in Google perché anche un altro ufficio diciamo un altro settore di questa di alfabeto insomma di questa mega compagnia sarà oggetto degli off ed è X da non confondersi con l'omonimo ex social network X è un ufficio è un centro di cerche di Google era adesso un po' cambiato però comunque era quello dove Google faceva i suoi esperimenti provava cose nuove tipo macchina guida autonoma oppure lenti a contatto smart o i dirigibili ecco i palloni aerostatici con la connessione internet che portavano insomma in giro connessione internet insomma questo era X l'ufficio dove si facevano si fanno anche un po' sperimentazioni è parte del gruppo other bets quindi altre scommesse proprio vedete come è un gruppo dove si vanno a immettere denari senza aspettarsi un ritorno immediato sul mercato e beh queste sono proprio le prime cose che saltano quando c'è da tagliare non ci sono numeri precisi comunque si parla di annunci di lay off anche in questa parte di Google poi molto velocemente ebay ebay va a tagliare circa mille posizioni quindi mille jobs saranno tagliati è circa il 9% dell'intera forza lavoro di ebay questa è parte di una ristrutturazione insomma si perderanno un po' di lavoratori inoltre Salesforce andrà a fare dei tagli circa 700 Salesforce taglierà circa l'1% della sua forza lavoro globale circa 700 dipendenti questo è il secondo round lay off di Salesforce dopo il 10% di tagli del 2022 e che tra l'altro ha portato anche un aumento delle revenue in Salesforce dopo questo è un dettaglio insomma che voglio dare e poi andiamo invece su Paypal lay off dei 2500 dipendenti circa il 9% della forza lavoro l'ha annunciato il CEO di Paypal Alex Chris in una lettera di dipendenti questi tagli sono necessari per ridimensionare la compagnia e rimanere competitiva e portare naturalmente crescita e profitti in realtà Paypal insomma è un po' in difficoltà attivamente perché con i costi che si sono alzati e la competizione sempre più forte più aspra di competitor come Apple Pay o Square insomma Paypal fa un po' fatica pensate che Paypal ha attualmente circa 30.000 dipendenti in tutto il mondo quindi non è piccolina Paypal quindi si deve un pochino ristrutturare insomma questo fa parte dei tagli che ha annunciato peraltro una piccola nota in chiusura come leggo dall'articolo anche su Neowin non vi ho citato tutti i tagli che riguardano il settore del gaming dei videogiochi perché qua non ci occupiamo specificamente di quelli però anche quello che comunque è tech è un settore fortemente colpito da layoff vincito soltanto alcuni Microsoft per esempio ha lasciato a casa 1900 dipendenti dopo aver acquisito Activision Blizzard quindi in quella divisione 1900 layoff poi anche in Zenimax ci sono stati layoff in Xbox Riot Games Embracer anche un altro gruppo anche che ha messo in atto questa misura quindi in quel settore diciamo che le cose vanno un po' così e con una notizia un pochino laterale perché non sono proprio layoff ma sono sempre ristrutturazioni vi dico che SAP che è un gruppo enorme la compagnia tedesca ha annunciato un po' di ristrutturazione della sua forza lavoro con l'obiettivo di spostarsi verso l'intelligenza artificiale quindi molti lavoratori saranno ricollocati riformati non riformati riaddestrati non so ritrained insomma riceveranno della formazione per essere spostati sull'AI quindi una grossa scommessa un grosso investimento di SAP nell'AI si parla di circa 2 miliardi di euro come investimenti e di questa sua corsa che tra l'altro ultimamente gli sta anche fruttando bene perché la crescita del 2023 è stata sostanziale si parla di un 23% di crescita e quindi comunque questa scommessa sembra che stia che stia pagando però non sono direttamente chiamati layoff ma probabilmente insomma se non riusciranno ad essere ricollocati molti di questi lavoratori poi saranno tagliati ve l'ho buttata lì insomma può per dirvi anche che c'è questa ristrutturazione in SAP che comunque è regna di nota un paio di link veloci in conclusione su Visual Studio Magazine trovo un articolo che riassume un paper un white paper sulla qualità del codice prodotto da Copilot quindi la qualità del codice dell'intelligenza ufficiale che non sorprendentemente è bassa cioè sta abbassando la qualità del codice prodotto con l'AI e questo articolo si intitola New GitHub Copilot Research Finds Downward Pressure on Code Quality quindi vuol dire appunto che la ricerca ha trovato una qualità inferiore ecco del codice prodotto da GitHub Copilot qui trovate anche il link per se volete andarvi a scaricare il white paper con l'intera ricerca però è abbastanza ben riassunta per farvi un po' capire quali sono i risultati che ne vengono fuori con codice di miglior qualità anche più vulnerabile insomma e questo è un po' quello che già avevamo visto in ricerche preliminari però qua viene ancora più approfondito ripeto l'articolo poi comunque vi lascio i link in descrizione New GitHub Copilot Research Finds Downward Pressure on code quality su Visual Studio Magazine e l'ultimo lo trovo su Better Stack si intitola Exploring Podman a more secure Docker alternative e come dice proprio il titolo va un po' a raccontarvi a spiegarvi come che cos'è e come utilizzare Podman che è appunto un'alternativa di fatto a Docker Desktop quindi se volete esplorare insomma come poter fare a meno di Docker Desktop e usare una cosa alternativa potete esplorare Podman che è attualmente assolutamente pronto per sostituire Docker e vi spiega come funziona e come fare a installarlo e a gestirlo insomma e quali sono anche le comparazioni per esempio con Docker Compose con tutte quelle feature che vi aspettate da Docker Desktop lo trovate su Better Stack Exploring Podman a More Secure Docker Alternative ed ho finito qui anche questa puntatona grazie per avermi seguito anche oggi noi ci vediamo a un prossimo episodio questo weekend sarò a Bruxelles al Fosdem quindi se qualcuno di voi che non l'ho ancora sentito su altri social ecco sa di essere lì di bazzicare la zona della conferenza insomma sappiate che sarò anch'io nei paraggi quindi magari se volete far due chiacchiere ci si becca lì grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima ciao